I vostri buoni sforzi non resteranno senza ricompensa. Le scritture lodavano gli ebrei coraggiosi che erano determinati a tornare da Babilonia a Israele la loro patria, per riparare il Tempio di Dio. Le scritture lodavano gli ebrei coraggiosi che erano determinati a tornare da Babilonia a Israele la loro patria, per riparare il Tempio di Dio. Gli ebrei patriottici hanno lasciato Babilonia per riparare con successo il Tempio di Dio in Gerusalemme come previsto. Le scritture riportano i loro sforzi, i figli di coloro che erano stati portati via prigionieri, che erano venuti dalla prigionia, offrirono olocausti al Dio di Israele, 12 tori per tutti, Esdra 8, 35-36, Israele 96 a Rieti, 77 agnelli e 12 capre maschi come offerta per il peccato. Tutto questo era un olocausto al Signore. E consegnarono gli ordini del re ai satrapi del re e ai governatori della regione al di là del fiume. Così diedero sostegno al popolo e alla casa di Dio, Esdra 8. 35-36, lezione. Le persone che hanno venduto la loro vita a Dio non si vergogneranno in qualsiasi circostanza. Saranno ricompensati per i loro sforzi. Dio ricambierà la bontà per le risorse che hanno usato per Lui. Geova farà in modo che nessuno dei loro sforzi non sia ricompensato. Le persone che rendono Dio felice con il cuore servile non soffriranno la vergogna, ma i loro volti irradieranno la gloria di Dio di tanto in tanto. La loro luce splenderà fino alla fine dei giorni. Perciò, chiunque sia impegnato in un buon corso di servizio a Dio dovrebbe continuare a praticarlo. In cambio guadagnerà molti benefici a tempo debito. Inoltre, una persona che non ha scelto di servire Dio con pieno impegno dovrebbe migliorare la sua pratica in modo da poter guadagnare molti benefici dal suo creatore. Sei pienamente impegnato nei confronti di Dio? Preghiera, caro Dio, la mia vita non avrà alcun significato significativo se non ti servirò pienamente. Perciò sono determinato a renderti il mio devoto servizio. Affinché tu possa avere piena gloria sulla mia vita. Ti prego di darmi un cuore di servitù per servirti fedelmente fino alla fine della mia vita. Permettimi con grazia, attraverso il tuo Spirito Santo, di servirti fedelmente fino alla fine. Aiutami a servirti con facilità e fa che i miei servizi ti siano sempre graditi. Ti prego di trasformarmi in un faro di lode al tuo Santo nome d'ora in poi e per sempre. Perché nel nome di Gesù Cristo faccio le mie richieste. Amen.